Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questo velocissimo video news. Altre news arrivano da parte del Game Informer, news, o meglio un video che purtroppo non posso mostrarvi, come al solito per problemi di copyright, in ogni caso mi limiterò a linkarveli in descrizione. Di cosa voglio parlarvi? Delle novità di cui si è parlato, ossia un primo velocissimo tour del Pick of the Winter, la nuova area social che sarà disponibile con i Signori del Ferro. Innanzitutto informazioni generali, ci hanno detto che prima di tutto dovremmo sbloccarlo, molto banalmente ripulendolo dai caduti presenti. Una volta sbloccato, lo potremo utilizzare come base per le nostre operazioni. Infatti saranno anche presenti gli NPC più importanti, come ad esempio l'amministratore Oliver Versam. Successivamente ci hanno anche detto che questa nuova area social diventerà il nostro punto di riferimento per lo standardo di ferro e che quindi dovremo acquistare qui le nostre taglie, vedere la nostra reputazione e riscuotere le nostre ricompense. Tra gli NPC nuovi inoltre, uno lo conosciamo già, è una Crypt Arca ed è che lei che ci fornirà i nuovi artefatti da cui li potremo ottenere. L'altro NPC invece sarà un cacciatore che ci darà delle taglie, tra cui si sono viste alcune taglie da completare nell'Arkons Forge, una delle nuove attività che verranno introdotte, e che venderà pure i patti dello standardo di ferro. Per il resto poi si sono viste principalmente alcune stanze, come ad esempio il Tempio del Ferro, in cui ci saranno anche le statue dei Signori del Ferro. Gli stessi signori, per nome almeno, di cui potremo ottenere pure gli artefatti. E una volta ottenuto l'artefatto potremo accendere una fiammella davanti alla rispettiva statua. Per il momento però non si sa se avrà una qualche utilità pratica, magari qualche segreto nascosto o cose del genere. E stesso discorso vale per delle campane, avete capito bene, in questa nuova area ci saranno delle campane sparse in giro. E scherzando Bungie ha detto ad esempio, chissà se succederà qualcosa attivandoli in determinato ordine. E mi limiterò a ripetere ciò che ho detto poco fa. Non si sa se semplicemente sta scherzando Bungie, o se effettivamente ci sarà qualche segreto nascosto dietro queste campane, o qualche semplice easter egg. In ogni caso, appena uscirà il DLC, sarò pronto a indagare e a farvelo sapere. Dunque ragazzi, per quanto riguarda questo velocissimo video news è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e il vostro gradimento. Pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto. Condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!